I casi delle morti in solitudine stanno man mano svelando la loro dinamica. Pochi giorni orsono, quello della donna 76enne incontrata macchie, vittima di un incidente domestico. Ora delle risposte arrivano anche per il decesso della 48enne di piazza Sant'Antonio Abate. È stata infatti eseguita l'autopsia sulla salma della donna dall'anatomo patologo Massimiliano Guerriero. Un esame particolarmente difficoltoso a causa delle condizioni della salma. In avanzato stato di decomposizione, un particolare che conferma come la donna fosse morta da tempo, mesi probabilmente, senza che nessuno si accorgesse di nulla. Lo ricordiamo, la donna originaria di Molfette è stata trovata nel bagno mentre il suo cellulare è sul tavolo della cucina. L'utilizzo ultimo del cellulare, risalente a circa due mesi fa, ha rafforzato l'ipotesi di una morte risalente alle circa 60 giorni fa. I risultati dell'autopsia disposta dalla procura di Campobasso hanno rilevato che sul corpo non sono presenti segni di ferite, lesioni riconducibili a percosse o a collutazioni. Ora bisogna attendere solo il risultato dell'analisi dei campioni prelevati per chiarire se la donna abbia assunto farmaci o sostanze che hanno causato la morte. Quindi, ipotesi del decesso, riconducibile al momento a quello della morte naturale dovuta ad un malore.